E voi quanti morti, quanti villaggi distrutti. E di nuove rovine, di nuove stragi che ha bisogno vostro padre? Vi rendete conto che non pendo l'armistizio vi abbandona il vostro destino? Mio padre ha bisogno di me. E io? Anch'io ho bisogno di te. Lo so, lo so, ma è diverso. Come posso spiegarti, farti capire? No, non capisco, non capisco, non voglio capire. No, non capisco, non capisco. No, 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 non capisco.